interessante mentre coltivano mi è arrivato pure qualcosa, mentre coltivano ci sono anche i rifiuti, ovviamente loro non sono in torto, anzi sono a ragione, hanno tutto il diritto di coltivare credo, però qui comunque sentiamo anche il cattivo odore di quello che hanno buttato, vabbè quello sarà qualche cosa, qualche disinfettante, non so, per le medicine fertilizzanti, non lo so, meglio che me ne vado se no me lo respiro, me ne vi è qualcosa, comunque ecco, qui c'è di tutto e stanno lavorando per la terra, ecco qua, siamo a Guidonia, Roma, Guidonia, io scappo perché mi sto respirando di tutto, comunque la discarica è qui continua, ce lo facciamo anche un pezzettino a piedi, ecco anche qua, vedete, ecco, si, praticamente stanno, dal odore è roba disinfettante, meglio che me ne vado